Ma guardi, Fontana ha esordito con la questione della razza. Io gli direi di non avventurarsi troppo nei temi sanitari perché rischia di farsi male sul serio e spero per la regione Lombardia che possa avere un bravo presidente della regione, che capisca anche le cose che non vanno rispetto all'attuazione sperimentale che io ho proposto e ho permesso della riforma sanitaria che ha preso una strada completamente diversa da quella iniziale. E per Giorgio Gori, assolutamente sì.